Pier Paolo, non era un esordio assoluto, però sei stato in campo più di metà set, com'è andata? Sì, penso è andata molto bene, dai, come la vedo io. Sono contento dell'opportunità di ammalato Luca, la partita si era messa come noi pensavamo, partendo subito aggressivi e facendo la partita noi. Luca ha avuto la possibilità di farci entrare dalla panchina, e quindi niente, sono contento per me e anche per gli altri che sono entrati. La vittoria è arrivata anche abbastanza bene, quindi doppiamente contenti anche per il risultato. Non hai avuto nessun timore anche a giocare qualche veloce? No, 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 a me piace giocare veloce, seguo molto lo stile di Lucio, quindi le poche opportunità che ho cerco di sfruttarle al meglio, senza avere timore e paura. Hai preso solo una sgridata da Capitano Zlatano, perché è un muro fuori, tu hai detto l'ho vista io, l'ho vista io, era fuori, hai chiesto il videocheck, invece non avevi ragione, eri lì a 30 centimetri, invece non hai avuto ragione. Sono andato a fare la copertura, ho visto che la palla era fuori, ho detto chiamare il videocheck e sono sicuro che era fuori. Ho fatto bene, lo chiamo, però se la palla è buona paghi le paste e pagherò le paste. Grazie a tutti.